padelle in arrivo da cecotec. Dovete sapere che loro hanno anche le padelle e queste sono in acciaio inossidabile al 100% con 5 strati di anti aderenza teflon di ottima qualità. Sono abbastanza massicce. Questa è quella da 20 con il fondo da 16 però vedete? Quella da 24 hanno un fondo da 5,2 mm indeformabile come vedete full induction tfo free quindi di ottima qualità e adatta anche alla cottura in forno e lavaggio in lavastoviglie. Manico molto ergonomico bello bella bella